Un buongiorno a tutti, un buongiorno a tutte, ben ritrovati e ben ritrovate di nuovo sul mio canale, è sempre un piacere stare con voi. Carissimi e carissime, come dico sempre, anche oggi andiamo ad apprendere qualcosa di interessante, chiaramente per chi è interessato è ovvio. Questa magia credo che vi piacerà molto, anche perché poi ne constaterete gli effetti nel via via che passa il tempo. È una magia antichissima, antichissima anche questa qua, perché a me piace tanto, tanto, tanto rispolverare le tradizioni ancestrali africane, afro-brasiliane, questo lo sapete. E questa magia cosa serve? A cosa serve? Serve a brillare, a sfolgorare di luce, di attrazione, cioè di emanare una aura di attrazione, di proprio brillo, si dice anche in portoghese, veramente irresistibile. Quindi le persone vi vanno a notare, vi vanno a vedere con occhi nuovi, diversi, apparite diversamente, brillate ai loro occhi, apparite in un modo molto, molto attraente. E questo è molto bello, per tutti credo, uomini, donne, per chiunque, chi non vuole essere più affascinante, chi non vuole essere più magnetico-magnetica, essere notato, avere quella energia, quell'aspetto diverso, quel non so che che attrae, incanta e magnetizza gli altri. Carissimi e carissime, anche questo lavoro viene dalla sapienza degli antichi africani. Andiamo a fare quindi questo, questa mandinga, si chiamano anche mandingas, questo lavoro, usando semplici elementi, come sempre, e tanta, tanta positività, tanta potenza, perché in questi lavori c'è una potenza veramente incredibile. E poi siete voi che sperimentate, io lo so già, ma a voi sperimentare, giustamente, per carità. Allora, come si fa per apparire sfolgoranti, per attrarre gli altri, perché il nostro partner ci guardi con occhi nuovi, ma non solo il nostro partner, anche le altre persone, chiunque ci circondi, anche chi ruota nell'ambiente di lavoro. Cioè, vi va a dare veramente una aura, come spiegarvi, una forma di energia, di tale sfolgorio, bellezza, di magnetismo, che le persone vi accorgerete, che vi stanno attaccate, affascinate, incantate. Giorno dopo giorno voi notate che non siete più né invisibili e comunque sia attraete tantissimo le persone. Bello, vero? Eh, ma io dico proprio di sì. Carissimi e carissime, come si fa? Acqua pura, acqua naturale, naturalmente, può essere anche di bottiglia, io la prendo da rubinetto perché è super potabile, va benissimo, nessun problema, acqua naturale. Chiodi di garofano, eh? Cravo da ingia, chiodi di garofano. Prendete dei chiodi di garofano. Dove li prendete? Ovviamente nel reparto spezie. Questo non è un problema, si reperiscono in tutti, in tutti i supermercati, poi se volete anche nel boristeria, non c'è problema. Chiodi di garofano. Fate attenzione che i chiodi abbiano la capocchietta, la testina, quindi via via, osservateli e usate quelli che hanno la capocchietta, non quelli senza capocchietta. E poi, un contenitore. Nell'antichità si usava una bottiglia, una bottiglia di vetro col tappo. Nella modernità possiamo giocare, ovviamente, anche con le cose che appartengono all'evoluzione. Io, per esempio, ho preso un contenitore da mezzo litro, ma può essere anche da più, per dire, da 750 ml, da un litro, per dire, di quelli che comunemente chiamati spruzzini, no? Vaporizzatori. Costano un'inezia. Li trovate dappertutto, anche questi qua. Quindi potete usare un vaporizzatore per comodità, ma se volete usare una bottiglia ben pulita di vetro, oppure anche di plastica, potete farlo anche con una bottiglia di vetro o di plastica. Non cambia assolutamente il risultato. Quindi scegliete voi quale contenitore usare. Questo lavoro si inizia quando volete. Non ci sono le fasi lunari, anche qui. Non ci sono i giorni, non ci sono gli orari. Lo fate quando vi sentite, quando volete voi, senza alcun problema. Basta che vi procuriate questi ingredienti. Acqua pura, contenitore, ovviamente che ci sia il tappo, eh. Chiodi di garofano. 17 chiodi di garofano. Numero che ci è tramandato dalla tradizione africana. 17 chiodi di garofano. Perché 17? Guardate, non lo so anch'io, sinceramente. È un numero che è tramandato così e così funziona. Quindi voi ne prendete e ne contate fondamentalmente 17. Come si fa? Semplicissimo. Prendiamo il nostro contenitore, ovviamente sciacquato, lavato, pulito bene. Andiamo a mettere dentro questi 17 chiodini di garofano. Questo, uno. Controllate che abbiano la capocchietta. Due. Andiamo avanti. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. Nove. Dieci. E gli altri sette. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Tredici. Sedici. E diciassette. Né più e né meno. A questo punto aggiungiamo l'acqua. È un po' pesante questa brocca, in effetti. Aggiungete l'acqua. Andate quasi a riempire la vostra bottiglia, bottiglietta, spruzzino come il mio. Andate a versare questa acqua. Non sto in silenzio per vari motivi. Sto concentrandomi a centrare, ovviamente, l'obiettivo di non far cadere fuori l'acqua. Quindi andiamo a mettere quest'acqua. Eccoci qua, che ci stiamo arrivando. Praticamente riempite quasi totalmente, quasi eh, non del tutto. Lasciate uno spazietto. Ecco. Diciamo così. Più o meno così. Vedete che c'è un pochino di spazio. Eh? La bottiglia è quasi piena, deve essere quasi piena. Lasciate un pochino di spazio. Andate a richiudere. Quindi, che sia questo tipo di contenitore qua, che sia, come vi ho detto, la bottiglietta di vetro, la bottiglia di vetro, la bottiglia anche di plastica. Va bene lo stesso, nessun problema. Andate a fesciare. Fesciare vuol dire chiudere. Eh? Fesciare. Si chiude, si dà un'agitata. E che facciamo a questo punto? A questo punto prendiamo questa acqua magica, perché va proprio definita così, acqua magica. E andiamo a metterla in un posto buio, in un posto dove non ci sia luce. E quindi, l'andiamo a mettere, per dire, in una mensola, in un cassetto, direi di no, in un armadio, in un ripiano chiuso, ovviamente. Non deve stare alla luce. La lasciate proprio lì, nel posto che scegliete, e la mettete lì. Per tre giorni e per tre notti, eh? Per dire, contate sempre in questo modo. Oggi è sabato, eh? Voi contate. Sabato, contate. Domenica, lunedì e martedì. Quindi, tre giorni si compiono effettivamente il giorno di martedì. Tre giorni e tre notti. Tre giorni e tre notti a riposare, a caricarsi al buio. Non importa che andate lì a guardare il contenuto. Non importa che andate lì a scuoterlo. Fa tutto da sé, diciamo in questo modo. Passati tre giorni e tre notti, possiamo finalmente usare questa infusione. Questo liquido meraviglioso. E come lo usiamo? Lo usiamo per lavare il nostro viso, la nostra faccia. Si usa esclusivamente sulla faccia, sul viso. Qui apro una parentesi che non ho detto prima. È chiaro che se avete un'allergia di qualunque natura ai chiodi di garofano, non fate questo lavoro. Ne farete un altro. Ce ne sono altri di lavori per attrarre. Quindi, se avete una conclamata forma di allergia ai chiodi di garofano, è raro, ma ci può stare. Non fate il lavoro. A me è capitata una persona, l'anno scorso, dove si lavorava con la cannella, che il giorno dopo era tutta, diciamo, un po' arrossata. E se l'è presa anche un po' con me. Evidentemente, quella era una delle rare persone che aveva una intolleranza, un'allergia, cosa naturale in questo mondo, a quella sostanza lì, alla cannella. Quindi, non è successo niente, è passato tutto. Però, se sapete di non tollerare il chiodo di garofano, non lo fate, ovviamente. Quindi, come si fa? Una volta che tutto è pronto, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, voi vi andate a spruzzare sul viso. Quindi, facciamo un po' di prove. Questo, anche così, mettete sulla mano, passatevi il viso, ve lo lavate, praticamente, con questa acqua. Qualcuno potrà dire, è cavolo, ma è solo acqua, non è che viene via lo sporco. Come si fa? Allora, potete benissimo fare anche la vostra routine col sapone, la saponetta, oppure la famosa skin care, come specialmente le donne, ma lo fanno anche gli uomini ultimamente. Lavatevi pure, prima magari con i vostri prodotti, qualunque essi siano. Ma una volta che vi siete lavati, eh, il viso con i vostri prodotti, prendete questo prodotto qua e spruzzatevelo, sia con questo strumento qui, sia con la bottiglia, ne mettete un po' nella mano e passate tutto il viso, eh? Lo passate il viso. E non risciacquate, non vi risciacquate. Usate tipo a mo' di tonico, eh? Quei tonici che si spruzzano o si tamponano e si fanno poi naturalmente asciugare. In pochi attimi, in effetti, asciuga. Tutti i giorni fate questa operazione. Quando il contenuto sarà finito, eh, cosa fate? Aprite il contenitore, andate a buttare via questi chiodini di garofano, meravigliosi, meravigliosi, ai piedi, possibilmente, di un albero. Questo sempre dalla tradizione. Quindi, albero, se ce l'avete, fuori di casa o nel giardino vostro, ben venga. Altrimenti, date un'occhiata fuori, guardate dov'è il primo albero e andate a depositare i chiodini di garofano esausti, diciamo così, che hanno dato la loro energia, ai piedi di un albero. Se poi non ci sono neanche alberi, potete prendere questi chiodini e magari, spostandovi un attimo, li andate comunque a depositare in natura, in natura, non nella spazzatura. Assolutamente no. E rifate il processo nuovamente. Vale a dire, risciacquate la bottiglia, rimettete 17 chiodini di garofano con la loro capocchietta, scartando quelli che non hanno la capocchietta, eh? Ne rimettete 17, rimettete l'acqua, rifate la solita operazione, quindi di riposo e carica di tre giorni e tre notti al buio, al buio, e poi riusate a piacimento, quotidianamente, questo favoloso incantesimo, questa acqua magica e vedrete, vedrete da voi come le persone vi vedono, vi percepiscono e sono attratte da voi in modo molto diverso. Vedrete anche che il vostro viso, molto probabilmente, si va a illuminare, si va a distendere, emana un'altra fisionomia, non è che ovviamente cambiate totalmente l'aspetto, ma c'è qualcosa che vi va ad avvolgere. Quindi a voi, come dico sempre, la prova e la controprova. Fate questo lavoro, provatelo, abbiate anche la costanza, perché le cose magari non è che le vedete dal primo istante. Nella magia una grande chiave, una grande arma è la costanza e la pazienza, benché a livello energetico questo composto inizia ad agire da subito, ovviamente, quindi si può fare praticamente a vita da questo punto di vista. Un'altra cosa che voglio dirvi, oltre al fatto della grande forma di energia, di attrazione, di luce che voi emanerete, di incanto che emanerete, non solo utile e favorevole in tutte le situazioni personali, attrattive, amorose, c'è anche un altro uso, magari altrettanto interessante, perché tutte le persone vengono attratte fondamentalmente, per dire, se dovete fare un colloquio di lavoro, benissimo, fatelo, prima spruzzatevi questo composto e fate il colloquio di lavoro. E molto, molto probabilmente andrà bene, perché riuscirete a incantare, a convincere, ad affascinare l'interlocutore. Se siete persone che lavorano a contatto con il pubblico, meglio ancora, vedrete il cambiamento anche lì. Se siete artisti, meglio, bene, perfetto. Come vedete, si può usare in una quantità infinita di modi, perché l'energia di magnetismo, di luce, di attrarre gli altri, di incantarli, è molto bella, è molto poderosa, e ci può essere davvero di aiuto in tantissime situazioni. Carissimi e carissime, non vi resta che provare, che provare, provare, e poi ovviamente sappiatemi dire, magari aspettate un attimo di tempo. c'è chi vedrà ovviamente l'effetto quasi immediatamente, c'è chi lo vedrà magari dopo un pochino di tempo, ma l'effetto, se avete fede, lo vedete. del resto questi insegnamenti non sono né casuali e se sono così vecchi e antichi, un motivo c'è. Io non propongo mai niente che non sia stato testato, testato e ritestato. Magari in Italia non è conosciuto, ma in altri paesi sì. Carissimi e carissime, con questa acqua meravigliosa, per oggi io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra compagnia, grazie, grazie per seguire il mio canale, per essere sempre più numerosi. Grazie a tutti voi, buon lavoro, e tantissimo asce, e ovviamente al prossimo video.